Ragazzi siamo nel secondo episodio di Minecraft Hardcore Allora Allora scusate per... scusate pensavo che non aveva fatto scusate Please sono io scemo Ah ah buona è questa ragazzi è ovvio siamo in un programma di tennis camera ok ci sono telecamere da tutto tipo qui Ok vabbè forse non è qui ma mamma mia c'è qua Per loro ascoltami non ci sono telecamere vorrei che fosse uno scherzo mi dispiace molto Potrebbe dirlo per non andare avanti lo scherzo andiamo ma se non fosse uno scherzo Audience Allora Allora What is that? Allora 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 Non mi dispiace tanto per il malinteso, ma abbiamo firmato un contratto con l'aiuto umano, perché è ovvio che siamo volati di passione. Sì, e ora ti abbiamo detto, ma che non ti servite? Scusa, perché? Non solo. Perché praticamente ho appena detto la stessa cosa. E tu lei con me e lei con me. Ah, sì, ma non siamo ancora qui, ma non mi salutarmi. No, solo non potete, ma prendete pure dei biscotti prima di andare via. Ok, forza, forza ragazzi, andiamo, non voglio fare con questa gente un minuto di più. Ok, se ne andiamo, ma poi io pensavo che... Andiamo. Che le vostre senti in camera non sono divertenti. Oh, aspetti, ho avuto un'idea grandiosa che ne penserebbe di dire di controllo di Roma. Insomma, una gara per a tutti i musicali. Oh, sì, oh, ti sento, porto a tutti i lonti. E quando vinceremo, potremmo fare il teatro ogni volta che vogliamo. Andata, scusa, perché stai parlando? Stai parlando, stai parlando, stai parlando, stai parlando, stai parlando, stai parlando, stai parlando. Volevo, ok. Sì, andata. No, no, ok. No, mi sa che sono buoni. Ragazzi, guardate, abbiamo pubblicato un video. Nella puntata di oggi avremo tre famose sito, manche. No, non anche i tuoi fratelli, io, ma Carmen e Lisa manche. Ah, stai parlando, non anche i tuoi fratelli, io, ma questa cosa deve essere controllate. Allora, siete dei grandi fanno i ghi, ma tu me lo? No, quei ghi, ma te sono un ghi. Non c'è cosa? Non sapete che quegli figati ti hanno invitato a fare una gara con gli uccidini? Non è andato così. No. Andranno a fondo Spagli da qui Sono dei pezzi, questi sono dei pezzi di fatti in video di guarda di guarda Ok, sono davvero a posto, che bello, allora il tiro Ma ci andranno a fondo Ah, si è andrillo davvero? No, niente ha fatto, i nostri fatti sono le ali Si adora, i fatti, si tentò già strillare del sogno Ah, si è andrillo, sono ancora da qua Ah, si è andrillo un video? Allora, adesso sono in... Scusate se stavo parlando, vabbè, scusate un attimo